Chi sono quei due? Sono i miei ziii Che è successo? Dicono che siamo degli spacciatori Pensate a Matteo, fategli passare un Natale sereno È una cosa grave Ma lei chi è? Sono il fratello del fratello, lui il fratello della sorella E con Marisa? Con Marisa la grande Pensa, è come se fosse il primo giorno Davvero? No, mi ha lasciato, sto una merda e dormo in macchina Ha richiamato Remo, si rassegna eh? L'uomo vero si giudica dalle azioni Sì ma azioni, non si scrive con una zeta sola L'hamburger non va mangiato a morsetti Ma davvero uomo, un bel morso, guarda E che cazzo sfortunato eh? Regola numero uno Cosa è la prima cosa da guardare in una ragazza? La bellezza La serietà Ah Quelle serie, no Ma tu sei una strapona Sai anche che significa questa parola? È contrario di fidanzata Stanno arrivando gli assistenti sociali Nostro nipote rischia l'istituto Che cosa, ci vedete lì? Oddio, a primo impatto o io ci vedo un cazzo? No No, o io ci vedo proprio un cazzo E non ce lo vedi invece A limite ci vedo un calamaro Eh Un calamaro Te sei messo con una? Una ragazza semplice, carina Fa tanta compagnia La badante Sai come si capisce che le piace? Ti fissa e mettendo dei piccoli grugniti Come una maiala Ma te fa male? Non mi piace Ah, te piace? Just one time Oh, 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 oh Grazie a tutti.